Fun Numbers! Me lo fai? Assolutamente no! Lo romperesti in un attimo! Ma che dici? Dai, fammelo provare! No! Dammi quel telecomando! No! No! Voglio solo provarlo! Ops! Ah, te l'avevo detto di non toccarlo! Quello era un regalo! Buone, 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 buone! Che stai facendo? Stai cercando di perdere peso! Sul serio? Perché? Sono stufo di essere un cerchio! Voglio diventare ovale! Capisco! A che serve quel pulsante? È il pulsante della super velocità! Non fremerlo! Perché? Non diventerai mai ovale se non metti alla prova te stesso! No! Ci sto riuscendo! Ci sto riuscendo! Wow! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto come al solito fatecelo sapere qui sotto nei commenti e lasciate anche un bel polliciazzo su! Lo sappiamo! Sono i video abbastanza ue 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 estivi! Mentre voi vi potete rilassare al mare! Mentre le onde si infrangono sugli scogli! Ciao!